Buongiorno ragazzi, sentiamo tanto parlare di protezione civile, oggi proviamo a capire cos'è e come funziona. Con il termine di protezione civile si intendono tutte quelle attività che lo Stato mette in campo per tutelare l'ambiente e la vita dei cittadini. Dalle calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, incendi, anche situazioni sanitarie come quella che stiamo vivendo. Infatti la protezione civile è un sistema di cui fanno parte diverse strutture. C'è lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ma ci sono anche i singoli cittadini, l'esercito con i carabinieri e la polizia, i vigili del fuoco, il 118, la Croce Rossa, il Corpo Forestale, il Soccorso Alpino. Ma ci sono poi anche degli esperti e gli scienziati delle università. Tutte queste strutture si aggiungono poi ai volontari che sono organizzati in tantissime associazioni che sono diffuse sul territorio. Se volessimo descrivere con un esempio la protezione civile dovremmo dire che la protezione civile è come un direttore di un'orchestra che è composta da tantissimi diversi musicisti. Però il direttore ha il compito di coordinare l'azione di ogni musicista in modo tale che il suono sia efficace e coordinato. Ecco, la stessa cosa fa la protezione civile. Coordina tutte queste strutture di cui vi ho parlato prima in modo tale che l'intervento sul territorio sia efficace e concreto. Il lavoro della protezione civile non inizia solamente quando c'è un bisogno immediato o una calamità naturale. Parte in remoto, si dice così da lontano, dall'analisi del territorio e prevedendo quali potrebbero essere i rischi che i cittadini su questo territorio potrebbero correre. Quindi, ad esempio, tutte le mappe che hanno fatto di previsione del rischio idrogeologico, cioè di possibili alluvioni o di terremoti, fanno parte di questa analisi del territorio e di previsione dei rischi che la protezione civile fa. Un altro compito della protezione civile è quello di fare in modo di prevenire i rischi. E quindi organizza quell'insieme di attività che hanno lo scopo di ridurre o eliminare del tutto i danni a cose e persone. Ad esempio, ripulire i boschi, fare informazione, controllare che gli edifici siano a norma, conoscere e diffondere le norme di comportamento in caso di terremoto. Ad esempio, tutte le volte che a scuola noi facciamo le prove di evacuazioni contro gli incendi o gli insegnanti vi spiegano quali atteggiamenti assumere in caso di terremoto, in quel momento lì agiscono secondo dei dettami stabiliti dalla protezione civile. Il compito poi forse più conosciuto della protezione civile è quello di prestare soccorso dopo che si sono verificati degli eventi calamitosi, cioè ad esempio delle alluvioni piuttosto che dei terremoti o degli incidenti gravi stradali o aeree o del treni, eccetera. In questo caso la protezione civile interviene direttamente per assicurare alla popolazione che è colpita da questo evento ogni forma di prima esistenza. Quindi costruiscono ospedali da campo, fanno delle tendopoli per permettere alle persone di avere un tetto nel quale ripararsi e cose di questo tipo. L'ultimo ma non meno importante è poi quello di ripristinare le normali condizioni di vita. Una volta che la popolazione è messa in sicurezza la protezione civile si adopera per rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono la ripresa della vita normale. Quindi la rimozione di ciò che ha provocato degli incidenti o delle macerie o di tutti gli elementi di pericolo che ci sono sul territorio. La cosa più importante da capire è che la protezione civile in fondo non è costituito solo da persone esperte, certo la loro presenza è estremamente importante, ma si fonda sul concetto, sull'idea che tutti noi siamo protezione civile e che dei comportamenti giusti e condivisi sono alla base per una corretta convivenza civile. In questi giorni ad esempio che ci viene chiesto di rimanere a casa lo dobbiamo fare, non solo per salvaguardare noi stessi, ma perché rimanendo a casa proteggiamo anche tutti gli altri. In questa azione noi siamo protezione civile, cioè noi ci proteggiamo reciprocamente.